Il sacerdote ed eremita Saint-Charbel-Makouf, morto il 24 dicembre del 1898 per la chiesa orientale maronita, è un santo taumaturgo molto amato da moltissimi cristiani, non solamente per le capacità, diciamo così, di guarigione straordinarie di lui, per coloro che si rivolgono a lui, dell'odio che promana dalla sua tomba e che continua a fare opere straordinarie, ma anche per il suo esempio di sobrietà, di digiuno, di intimità con il Signore e di nascondimento, tanto che non troviamo delle sue immagini, sebbene sia relativamente recente, cioè morto nel 1898, poi santificato nel 1977, non si trovano sue immagini dove guardi dritto, diciamo così, in camera, nemmeno immagini dipinte, ma sempre che guarda verso il basso. C'è una bellissima frase che gli viene attribuita, non abbiamo la certezza che sia sua, perché non ha lasciato scritto niente, che ritengo che sia davvero confacente a coloro che vogliano vivere come monaci, sia essendo monaci formalmente, sia per coloro che vogliono essere monaci nel cuore, nello spirito, pur vivendo in famiglia, pur lavorando, pur vivendo in città, ma che, come insegna Gesù, chiusa la porta della propria camera, del proprio cuore, lì stanno in intimità con il Signore e lo pregano. C'è questa bella frase, quindi attribuita a San Charbel, gli uomini chiedono prodigi per credere, segni per vedere, messaggi per capire e comprendere, una strada per camminare, per raggiungere la felicità. Il prodigio è il Santissimo Sacramento, il segno è la croce, il messaggio è il Vangelo, la salvezza è nella Chiesa. Questa bellissima frase, ritengo che sia quanto mai opportuno meditarla e conservarla nel proprio cuore, oggi che più che mai sentiamo tante voci che dicono ecco di qua è apparso questo, quest'altro, qui c'è quest'altro messaggio dal cielo, qui ci sono dei segreti rivelati che ci possono dare una salvezza che altrimenti non potremmo avere. Ecco, ci sono tante vie per raggiungere la felicità proposte dal mondo, anche all'interno della religione stessa, ma noi abbiamo permanente il dono del Santissimo Sacramento. Lui, Gesù Cristo sacramentato, è il nostro prodigio quotidiano permanente. Il segno della nostra salvezza è la croce, non è la fuga dalla croce, la ricerca di una salvezza dalle sofferenze e dalle cose brutte che il mondo ci impone. Il messaggio vero di salvezza non è andiamo qua, andiamo là, in quel posto c'è la salvezza, invece se stiamo in un altro non c'è la salvezza. Il luogo della salvezza è la Chiesa, la Chiesa che nonostante le sue sofferenze, nonostante le sue difficoltà, nonostante anche i suoi tradimenti a volte o anche stesso, è pur sempre il luogo che Gesù Cristo ha scelto come luogo della salvezza, nel quale si trova il Vangelo che è il messaggio di redenzione, di espiazione, di veramente di quella salvezza, di quel desiderio di gioia, di pace, di serenità, anche in mezzo alle tempeste di cui il nostro cuore ha tanto bisogno. Ecco, pensiamo un pochino, riflettiamo questa breve frase di Saint Charbel e meditiamola nel nostro cuore, come ci insegna la Santa Vergine Maria. Gli uomini chiedono prodigi per credere, segni per vedere, messaggi per capire e comprendere, una strada per camminare e raggiungere la felicità. Il prodigio è il Santissimo Facramento, il segno è la croce, il messaggio è il Vangelo, la salvezza è nella Chiesa. Grazie a tutti.